ciao a tutti e benvenuti sul mio canale senza logica malsicogita come vi avevo promesso da oggi cominceremo un ciclo di chiacchierate con un graditissimo ospite che già conoscete il dottor fosco loregian e ciao fosco e di che cosa parleremo in queste chiacchierate ovviamente di matematica e di divulgazione della stessa cercando di sfatare qualche leggenda metropolitana che circola su di essa anzi a tal proposito vi invito a commentare sotto il video e esporre le vostre domande le vostre curiosità cercheremo di rispondere in tempi ragionevoli in questa puntata introduttiva cercheremo di illustrarvi perché abbiamo deciso di intraprendere questo percorso e quindi lascio la parola a fosco così ci racconta un po che cosa ne pensa della matematica e della divulgazione della matematica almeno in italia grazie sì allora ci siamo sentiti un po di tempo fa per un'altra di queste chiacchierate un po più preparata quella precedente però dopo abbiamo iniziato a discutere se fosse il caso magari di approfondire certe idee che sono venute fuori presentarne altre fare un discorso che entra un po più nel merito di alcuni di alcuni aspetti mi mi interessa molto questa questa aspetto della storia cioè raccontare alcune parti del di che cos'è la pratica matematica di cosa significa farla nella quotidianità perché appunto è la mia quotidianità e soprattutto però perché io sono dell'idea che il problema che si incontra nella le persone hanno in odio il pensiero scientifico o il la la matematica per una incomprensione di fondo perché sono stati deformati dal sistema scolastico o perché sono stati spaventati da persone troppo per esempio concentrate su degli aspetti molto superficiali della competenza della fluency non mi ricordo la parola in italiano nella nel pensiero matematico per una serie immensa di motivi e sfatare alcune di queste credenze che ci sono che le persone pensano che la matematica sia questa cosa molto noiosa molto difficile incomprensibile lontana dal beh che sia difficile e difficile da comprendere è una cosa che qualsiasi matematico professionista confermerà nel senso che è spesso molto frustrante il cinque minuti prima del di che questa chiamata iniziassi io ero esattamente nella al al all'apice diciamo nella nella fossa di disperazione di frustrazione per non un problema che non torna ma due tre quattro cercando di andare avanti un po in ciascuno ma progressi fatti zero in nessuna direzione quindi ma questa è la bellezza è una caratteristica che in comprensibilmente può spaventare certe persone può portarle a credere di non essere all'altezza di non essere tagliati per la pratica per la quotidiana sfida intellettuale del cercare di rispondere a una domanda per cui non non si sa ancora se ci sarà una risposta il il fatto è che non è molto diverso da una qualche forma di apprendistato da una qualche da una cosa che si fa con le mani alla fin fine perché anche quando uno vuole che ne so imparare a lavorare il legno a usare il la la lo scalpello il martello a disegnare va incontro a delle frustrazioni a dei fallimenti è una cosa che è esattamente a metà strada tra un lavoro che ha una componente creativa molto forte e per cui bisogna essere fondamentalmente ispirati e un'altra metà invece è la l'esecuzione di una paziente di una processo di apprendimento la il sottoporsi a un processo di apprendimento pensare riflettere e capire usare gli strumenti che siano a disposizione farsi venire un'idea che non è geniale magari ma che è essenzialmente è la con la cazzimma degli ingegnere quasi perché sai che vuoi costruire una macchina che faccia un certo lavoro sai grosso modo come le macchine di un certo tipo funzionano e dai fondo a tutta la tua pazienza tutta la tua ostinazione e alla fine questo processo di ostinazione di continuare a sbattere sullo stesso problema più e più e più volte a volte alcune volte porta a qualche risultato ora questa è una narrazione che si fa molto spesso di come funziona il lavoro dello scienziato in particolare del matematico che ha questa anche incapacità di riferirsi a degli oggetti veramente concreti perché manipola entità che sono linguistiche o che sono per costruzione sono molto astratte quindi non hanno una ricaduta sul o non sono l'effetto di un esperimento che ha a che fare con degli oggetti fisici ma con degli oggetti del pensiero ma il metodo sperimentale non è fondamentalmente diverso perché quello che succede è che vuoi capire come è fatto il dannato oggetto matematico e non è molto diversa la forma mentale in cui ti poni rispetto a quando vuoi capire come è fatto il dannato atomo il dannato non lo so il fossile di un paleontologo che cerca di capire se un femore è un femore o in realtà un altro osso e quindi sì cosa voglio dire con questo che c'è questa viene percepita come una una pratica molto distante dalla quotidianità e quindi la scuola il modo particolare molto peculiare anche molto distorto con cui viene insegnato il pensiero matematico sempre in concentrato al dare delle maniere di risolvere dei problemi molto artificiali sarebbe molto più per esempio sarebbe molto più utile molto più proficuo instillare nelle negli studenti il desiderio di rispondere a una domanda l'urgenza di rispondere a una domanda e poi dirgli bene vuoi rispondere c'è un prezzo da pagare che è imparare questo linguaggio perché nella nelle pieghe di questo linguaggio è nascosta la risposta alla tua domanda e molte persone io me compreso molte persone hanno trovato io trovavo la matematica scolastica molto noiosa per esempio quando ero uno studente di liceo e precedentemente perché perché veniva raccontata come una cosa che sì bisogna fare questo numero di ore ogni giorno ogni settimana per che alla fine dovrà imparare cos'è la trigonometria ho capito ma e dopo nel senso una volta che mi ha insegnato questi questi concetti io dopo cosa me ne faccio non è che dubito che siano utili ma tu non mi hai mostrato che sono utili mi hai chiesto di accettare dogmaticamente che sono utili e io non sono mai stato molto agreeable nella mia adolescenza e quindi se uno mi dice fai questa cosa io non la faccio anche se potrebbe essere divertente e utile io non la faccio per il semplice motivo che mi hai imposto di farla allora sai che c'è no per darti fastidio e perché così dopo dopo vediamo nel senso vuoi che la fa costringimi oppure dammi un motivo oppure tutte e due le cose e anche qui cosa voglio dire con questo ma che questo è un problema della della maniera in cui la matematica viene insegnata la scienza in realtà in generale viene insegnata molte materie scolastiche in realtà soffrono di questa materie scientifiche non sono le uniche che soffrono di questo problema i ragazzi chiedono sì ma cosa mi serve cosa me ne faccio beh tu magari potresti non fartene qualcosa per c'è una c'è una vecchia vignetta su smbc una sito di di fumetti per ego a cui questa è una citazione un po' troppo nerd per la per la per il pubblico ma insomma c'è questo fumettista americano abbastanza nerd che a un certo punto ha pubblicato questa vignetta in cui un ragazzo fa la solita domanda al professore ma la matematica a cosa serve e il professore fa a te a te non servirà probabilmente a nulla però al ragazzo più sveglio dalla parte opposta della classe potrebbe avere una esatto esatto e non lo so magari io purtroppo tendo a essere molto logorroico quindi se mi guidi tu verso una domanda di un vaccino un po più ristretto altrimenti io parlo per tre ore no io sono molto come dire critico nei confronti della didattica matematica in italia forse ne abbiamo già parlato viene sempre parlato recentemente tra l'altro con quella famiglia di di quella famiglia finlandese sì 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 e niente questa questa idea che venga sempre calata dall'alto e poi ho sentito molti studenti dirmi io non la capisco la matematica imparo in teorimi a memoria cioè come c'è la cosa più assurda più deleteria che si possa fare cioè imparare un teorema a memoria senza capire il significato di quello che stai facendo semplicemente lo impari giungi una ad una conclusione non sai perché l'hai ottenuta né come l'hai ottenuta è l'esatto contrario di quello che dovrebbe insegnare la matematica e do molta colpa tra virgolette ai docenti per il per il modo in cui la insegnano non riescono a trasmettere quell'interesse non riescono a trasmettere che perché va fatto in un certo modo sì questo è un problema generazionale o di diciamo di non voglio dire di diceto ma non mi viene in mente una parola migliore ma molte persone che insegnano matematica a scuola scuole medie per esempio non hanno veramente una formazione ovviamente sono competenti nella tematica di base che devono insegnare a dei ragazzini così giovani però gli manca la una un tratto filosofico che è fondamentale per comunicare adeguatamente la materia e che i matematici possiedono perché è parte del bagaglio di di della struttura mentale che viene data a un matematico e non a un altro tipo di scienziato un po forse i fisici sì perché comunque imparano della matematica di alto livello ma i biologi i persone che magari hanno fatto una materia gli ingegneri hanno magari fatto molta analisi o molta statistica però non hanno nessuna competenza di algebra o di geometria oltre quella geometria molto elementare e quando insegnano quindi hanno questi buchi concettuali anche a livello di storia del pensiero matematico del pensiero scientifico che sono a volte sono mandornali sono proprio gente che non ha idea di quando si è vissuto Euclide e di cosa abbia fatto e di cosa sia successo dopo che è come dirti non lo so non so chi era Beethoven non so chi era Einstein sono persone che anche il diciamo l'inesperto sa dirti sì grosso modo nel secolo e ha fatto una cosa del genere e questo problema si riflette sugli studenti perché non puoi devi spiegare ad una specie ad un ragazzo qual è il punto del pensiero matematico qual è il motivo dell'essere così schizzinosi rispetto a cosa sia effettivamente un teorema dimostrato e cosa sia una congettura e quando possiamo dire che effettivamente siamo certi della verità di un asserto cosa significa poi essere certi all'interno di quali perché nessuna a parte vabbè tutto il discorso su la verità distinta di una proposizione distinta dalla sua ammissibilità linguistica puramente sintattica che è un'idea profonda della matematica del XX secolo che secondo me sarebbe già vantaggioso sarebbe già un enorme miglioramento riuscire a comunicare ai ragazzi scolari c'è una non comunicazione poi tra per esempio nei licei classici scientifici si studia cultura classica qualsiasi cosa voglia dire questa locuzione che non mi piace e buona parte della cultura classica in realtà legata a quadruplo filo al pensiero scientifico e i filosofi una volta erano Leibniz Newton, Cartesio e compagnia cantante e quindi il me di 16-17 anni si chiedeva costantemente ma scusami noi facciamo? Sembrano due persone diverse perché quando io imparo il piano cartesiano e le derivate di Leibniz e Newton sto imparando qualcosa che queste persone hanno fatto e poi un'altra persona mi racconta della struttura del loro pensiero è chiaro che queste due cose non sono mai state veramente sconnesse ma la scuola te le presenta come due, come la concomitanza accidentale del pensiero di un individuo e del suo avere prodotto un linguaggio che è stato utilizzato per rispondere a delle domande, per risolvere dei problemi la filosofia di Newton riguardo alla natura, quali sono le strutture ultime della natura informa la sua opinione su quale sia il modo giusto di fare, di creare uno strumento matematico e Leibniz lo stesso e litigavano per chi avesse il prima, c'era la disputa, la diatriba eccetera il carteggio in cui si scambiavano questi messaggi cifrati ma questo è solo un esempio, ce ne sono a dozzine perché non si riesce a far passare questa e perché una persona che poi fa tutt'altro nella vita però non deve avere cioè io ho dovuto imparare lì sia a memoria perché non c'è nessuna logica che tenga insieme le date di nascita e di morte degli autori latini tardo e proto-latini della Roma classica e dell'epoca imperiale eccetera eccetera non farò nessun uso di queste competenze che poi il tempo ha lavato via per fortuna e ha sostituito con cose un po' più utili ma non farò alcun uso però sono stato costretto a imparare in una prospettiva storico-critica la letteratura perché non si può fare lo stesso con la matematica perché non si può dire invece di presentare queste risposte preconfezionate perché per esempio non si può fare uno studio di tipo tematico cioè misurare gli oggetti o misurare il tempo cosa significa dimostrare una proposizione queste sono cose che possono abbracciare due temi due problemi che si possono abbracciare in una prospettiva partiamo dai babilonesi misurare gli egizi misurare i campi e arriviamo alla geometria iperbolica perché e passando tra l'altro poi per la trigonometria non come un oggetto che ti viene portato lì ci spendi due quadrimestri e poi è lì te lo metti in tasca e non ci fai niente ma si potrebbe per esempio raccontare la storia del motivo per cui la la matematica araba era così abile nella calcolare angoli seni coseni tangenti perché navigatori esperti tra tra molti altri ma gli arabi si sono accorti che la geometria della terra è sferica e su di una sfera non è banalissimo capire qual è il segmento più breve più corto che congiunge due punti e lo sa benissimo anche chiunque abbia fatto un volo tra Europa e Stati Uniti che è un po' controintuitivo il motivo per cui la traiettoria dell'aereo è quella e non quella che sembra una linea retta sarebbe molto più lunga durerebbe molto di più ma non solo questo gli arabi avevano in testa il problema della mettersi nella direzione giusta quando si prega verso la Mecca e risolvere questo problema è un problema di trigonometria e è un problema di trigonometria che è diventato urgente risolvere per motivi religiosi per motivi culturali quindi per qualcosa che ha molto a che fare con la vita quotidiana ma anche con la spiritualità degli individui di una comunità e l'urgenza di questo problema era motivata unicamente da questo aspetto culturale non c'era nessuna poi ovviamente le ricadute pratiche sono infinite ma inizialmente c'era questa volontà questa urgenza di rispondere per un motivo che nasceva dalla religione e io lo trovo una dimostrazione molto forte del fatto che la matematica è inserita inevitabilmente nella vita quotidiana delle persone solo ci sono due tipi di individui quelli che se ne rendono conto e lo apprezzano e lo studiano lo approfondiscono e quelli che non lo fanno ma si può fare lo stesso discorso per tante cose che sono sdoganate come parte ogni persona deve avere un minimo di competenza nel capire come funziona l'economia se non altro perché è parte di un sistema che rischia di subire ogni persona deve avere un minimo di competenza su come funziona la politica perché deve dare un giudizio informato quando deve eleggere un individuo per rappresentarlo a qualsiasi livello poi della scala perché un individuo non può avere anche una opinione informata rispetto al funzionamento dell'universo perché la fisica la chimica certamente danno questa competenza nei limiti in cui uno le studia a scuola la matematica viene spiegata in un modo che secondo me non riesce a portare a casa questa questa idea cioè ti viene detto ci sono queste cose devi imparare queste procedure che sono puramente meccaniche perché da una domanda devi esibire una risposta ma cosa significano i simboli che stai usando per formulare la domanda e perché mai dovrei darti una risposta cosa me ne faccio invece l'urgenza di ottenere una risposta la la mostrare alla gente l'evidenza del fatto che guarda vuoi capire come mettere il tappetino e pregare verso la mecca allora devi fare così non c'è molto da aggiungere non non c'è proprio è per come funziona il problema è la difficoltà del problema che ci ha costretto a sviluppare il linguaggio per trovare la risposta ma non puoi separare non puoi allora smettere di raccontare qual era la domanda da cui sei partito oppure quello che succede è che stai presentando la risposta senza una motivazione per fare la fatica senza una motivazione sufficiente che permetta all'interlocutore di affrontare l'enorme fatica cognitiva che significa imparare un nuovo linguaggio questa è un'altra cosa che non passa nell'educazione scolastica quanto sia difficile imparare una idea nuova quanto un concetto che è per te docente cristallino nella tua testa spiegato a qualcuno che lo vede per la prima volta è astruso è incomprensibile come può essere vera questa cosa oppure come e anche qui c'è lo stesso autore di fumetti che come avrai capito è il mio una mia una mia riferimento culturale costante in cui c'è il professore a scuola o meglio la vignetta la striscia inizia con questi matematici nell'ottocento che scrivono il loro teorema dirompente e rivoluzionario tutta la comunità dice non crederò mai che questa cosa sia vera con l'ultimo respiro io sputo sul tuo teorema e non credo ci fosse anche adesso non mi ricordo chi fosse quel fisico uno dei fondatori della meccanica quantistica ma non so quale dei 3-4 che ha detto non è che una teoria diventa la teoria dominante quando la gente capisce veramente che cosa afferma e è in accordo con la teoria ma semplicemente a un certo punto a un certo punto tutti i suoi oppositori muoiono e va e fine però questo è un processo molto sofferto che l'educazione matematica un po' di tutto il pensiero scientifico in realtà perché ti viene detto guarda i corvi si muovono così fine il calore si muove in questa direzione fine quando si arriva i pochi che arrivano a fare un po' di relatività ti dicono il tempo si dilata gli spazi si dilatano il tempo si restringe ecc perché ok però non ti viene detto quanto è stato sofferto e completamente anche osteggiato dalla comunità scientifica dalla comunità matematica dalle persone che dicono no questa non è vera matematica questo teorema è falso non può essere vero ci sono due o tre esempi illustri in questa direzione ma dopo quello che succede è che o non si vedono perché bisogna fare un programma canonico e tutte le cose che sono un po' più interessanti ma anche un po' più e ci sarebbe poi da aprire una parentesi gigantesca sul fatto che io mi ricordo solamente queste divagazioni queste domande che sembrano stupide dai miei vecchi libri di di scuola di matematica te ne menziono una tra un attimo ma prima finisco perché come vedi mi perdo in subordinate subordinate multiple insomma quello che succede è che ti viene detto guarda c'è il teorema di Pitagora a casa imparatelo a memoria e usatelo capirlo e anche apprezzare che è stato magari un processo sofferto quello che ha portato a dire beh ci sono delle situazioni in cui non è vero il teorema di Pitagora ma allora che cos'è un teorema cioè questa idea che la matematica sia questo darti degli asserti che sono veri indipendentemente da delle condizioni è una scemenza ovviamente tu lo sai bene perché devi anche specificare quali sono i presupposti dati certi presupposti certo è indubitabile troveremo lo stesso teorema ma c'è gente che non capisce questa litigato proprio ieri con una persona che non è d'accordo questo però è un aneddoto un po' speziato diciamo molto recente insomma viene detto è così e più non dimandare si perde completamente quello che la matematica è stata un processo collettivo di creazione con estrema fatica e spesso anche di risultati che erano di rottura con la con la comprensione precedente la un matematico non stupido come Hilbert aveva detto ma forse possiamo veramente fondare in maniera completa totale chiudere completamente l'edificio della matematica ed è stato una una rivoluzione del pensiero e anche della maniera in cui pensiamo la matematica quando qualcuno ha detto no in realtà non si può fare mi dispiace è successo molte altre volte ora Gödel e Hilbert sono un po' la carta facile da giocare in questo ma non sono gli unici è successo molte altre volte quando il cos'è una funzione il postulato delle parallele sono altri esempi molto semplici da fare ma ce ne sono di più tecnici quando qualcuno ha detto guardate questa cosa è vera ma sarebbe molto meglio saremmo molto più felici se non lo fosse la comunità si è dovuta adattare la comunità ha dovuto dire ma quindi cosa ed è stata sorpresa stupita perché c'è questa tensione tra come funziona il cervello e cosa vuole il buonsenso il senso comune vuole credere sia vero e cosa invece è effettivamente vero effettivamente reale quindi che si fa bisogna partire dall'inizio e dare della matematica un'idea un po' più inclusiva nel modo giusto cioè bisogna dire chiunque voglia imparare la matematica può farlo ma la matematica non può diventare un linguaggio troppo semplice a misura d'uomo perché c'è un prezzo da pagare per acquisire queste competenze e c'è per ogni cosa nel senso imparare a costruire un razzo che non esploda in volo è difficile imparare a costruire un'automobile ancora più semplicemente è difficile imparare una lingua è difficile c'è bisogno di una enorme fatica iniziale poi si scavalla e piano piano con molta fatica si iniziano a capire le conversazioni che si sentono la televisione la radio i giornali i libri che si leggono nel francese tedesco inglese non è molto diverso con la matematica bisogna fare molta conversazione bisogna avere delle persone che sono molto fluenti nel linguaggio e la sostanza in questa analogia la sostanza è che molte persone che insegnano matematica si trovano a farlo con un grado di proficiency di fluenti di essendo molto poco fluenti nella lingua magari si arrabattano certo e non ti dicono delle cose sbagliate però non ti danno questa idea non passa l'idea che alla fine la matematica è semplicemente quella parte di realtà su cui abbiamo un accesso più o meno completo è la parte di realtà che possiamo veramente conoscere che possiamo veramente dirimere tra giusto e sbagliato tra vero e falso quello che cade sotto questo ombrello è pensiero matematico e quello che no è pensiero di altra natura e c'è bisogno di una tensione tra i due aspetti nell'individuo una persona a cui manchi metà di questa sensibilità una di queste due è mutilata è castrata nella vita però c'è questa idea e questo afferisce poi alla maniera in cui la scuola è stata riformata da un individuo di bassa di cui non farò il nome no che poi magari la gente pensa male che parlo di qualcuno ancora in vita il bisognerebbe fare una chiacchierata a parte su un aspetto che a me è interessato molto approfondire un po' non dico di essere un esperto ma la 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 riforma di gentile della scuola questa decisione che da una parte ci sono le materie classiche e dall'altra tutto il resto che stiamo con fatica lentamente con questo processo magmatico di cambiamento di mentalità nella scuola italiana stiamo distruggendo stiamo finalmente mettendo in discussione in maniera definitiva ecco è nata in un momento di dibattito filosofico molto acceso tra gentile e un matematico di enorme spessore Federico Enriques che aveva idee diametralmente opposte molto vicine alle mie e a quelle dei matematici e che diceva è sciocco di dissezionare il sapere umano in questa maniera artificiale completamente cioè Egel aveva tanti pregi ma non sapeva una sega di matematica e non la capiva e non aveva idea di che cosa fosse nel suo tempo il pensiero matematico dove stesse andando la ricerca e quali problemi la motivassero perché era già in un momento in cui era impossibile essere padroni della della stato dell'arte senza essere Gauss capisci dentro quei problemi dentro quel livello di tecnica era già una disciplina a se stante e si stava definendo come tale in quel tempo quindi aveva tanti pregi ma di matematica capiva niente e il ruolo della matematica nella storia del pensiero è una cosa che gli passa non sopra la testa di più secondo me Enriquez ha detto guardate lui tra l'altro leggeva fluentemente il greco antico e il latino come una seconda terza lingua nativa e aveva delle conoscenze di letteratura di storia di filosofia molto vaste e e in più era un matematico quindi aveva questa duplice natura che per lui però non era affatto duplice era semplicemente la maniera in cui una persona erudita deve lavorare sapendo un po' di tutto e diceva bisogna che passi questa idea nella scuola bisogna che si parlino i due lati del ponte umanesimo e scienza perché si sono parlate per molto tempo si sono anche si è anche evitato di dare un nome separato l'una all'altra c'erano semplicemente i filosofi i pensatori gli esperti poi dopo sono nati i fisici gli ingegneri eccetera ma molti fisici del passato avevano delle idee filosofiche magari anche un po' colorite un po' peculiari però molto ben definite è molto difficile dire se Bertrand Russell fosse un matematico un filosofo era entrambe le cose ma comodamente è annoverato tra allo stesso modo non lo so Heisenberg aveva delle opinioni filosofiche molto ben determinate molto ben precise e lo ricordiamo per diverse diverse cose e perché non può passare questa idea perché non può sembrare che questa legame questa eredità non si sia mai rotta non sia mai interrotta perché la gente non sa raccontare la storia in questa maniera non sa anche catturare l'attenzione dei ragazzi che pensano in termini idealistici in termini avventurosi in termini sono incuriositi dallo stesso tipo di storie che leggono nei fumetti nei libri nei libri di fantasy nei film adesso non so cosa facciano gli adolescenti di oggi perché io ormai sono un po' maturo però nel senso sospetto che non non ci sarà mai una generazione che dirà 100% della del campione dirà il signore degli anelli che schifo il il non lo so la fantasce Asimov che merda cioè ci sarà sempre qualcuno che dirà figata sarebbe molto bello imparare la scienza leggendo libri di art sci-fi che ne so fisica si si studia un po' di di meccanica e di dinamica e e poi si dice vabbè leggetevi Rendezvous con Rama adesso non mi ricordo se il titolo del libro in italiano sia proprio Rendezvous con Rama però tu hai letto questo libro sai di che libro parlo perfetto adesso lo raccontiamo in due parole all'audience c'è una l'umanità scopre che c'è questa astronave o questo oggetto non identificato non mi ricordo dove di preciso ma questa cilindro immenso che ha una sua gravità all'interno del quale ci sono delle delle coltivazioni e delle popolazioni e decide di mandare un'astronave per capire chi c'è dentro non mi ricordo sono passati molti molti anni poi qui potrei aver sbagliato qualcosa ma l'idea è che c'è questo aggeggio vogliamo capire ci dobbiamo andare e la maniera in cui la storia è raccontata rispetta la fisica come la sappiamo perché c'è il problema di come ci vado come costruisco l'astronave quanto tempo ci metto e poi quando arrivo lì questo cilindro è in rotazione e la simulazione di un campo gravitazionale che permette alle persone di camminare lungo il bordo interno del cilindro viene dal fatto che questa cosa gira e capisci non serve granché per dare una per raccontare una storia che ha un po' di tutto c'è l'avventura il colpo di scena il mistero chi è il colpevole le cose e nel frattempo ti insegno anche un po' di fisica un po' di di meccanica ti insegno a fare ti do i compiti non su il treno che incontra l'altro treno dimmi a che ora no andiamo nello spazio oggi scemenza per carità io non sto dicendo che adesso che ho il bollino magico per risolvere il problema della scuola però è un po' asfittico anche perché ti trovi davanti persone sei magari tu una persona che non ha questa capacità di improvvisazione visto che siamo partiti con la metafora del jazz e del nostro improvvisare questa chiacchierata non ha questo verve nell'improvvisare perché ha meno confidenza con i concetti ti trovi davanti delle persone che sono già poco interessate o che magari hanno anche altri problemi per la testa e si crea questo circolo vizioso per cui il tuo pubblico non ti dà soddisfazione e tu non sei motivato a imparare qualcosa in più quindi dai sempre meno e quindi loro per ritorno ti danno sempre meno soddisfazione quindi tu sei sempre meno motivato adesso ripeti questo circolo vizioso per 15-20 anni è chiaro io trovo anche comprensibile che sia qualcosa che ti sfianca ogni voglia di fare qualcosa di innovativo di metterci un po' di fantasia anche qui ho la soluzione no però persone giovani e competenti dovrebbero fare il lavoro degli insegnanti e dovrebbero magari che ne so passare a fare dei lavori più organizzativi più dirigenziali più quando magari hanno meno verve meno spinta intellettuale perché stanno nella fase discendente delle capacità comunicative espressive però hanno una grande esperienza per averlo fatto per i precedenti vent'anni e quindi possono decidere possono anche valutare con enorme condizioni di causa chi è competente e chi no chi ha la stoffa e chi no e che ovviamente questo si basa sull'ipotesi disponibilità di denaro e libertà di carta bianca infinita per organizzare e anche rimodernare la scuola ogni ventenni ogni tre quinquenni e questa cosa non si può fare ovviamente perché vanno è molto più magmatica l'evoluzione nel però il problema non è solo la scuola nel senso c'è anche una quindi non volevo parlare per un'ora solo della c'è molto da dire e potremmo parlare anche più di un'ora due tre cinque una cosa un mese e mezzo lo faremo nelle prossime puntate si spera se il pubblico sopravvive mi sembra anche qui di essere andato molto per la tangente di essere proprio partito in un monologo infinito no allora innanzitutto come dire io sto parlando pochissimo per due motivi principali primo perché essendo mio ospite diciamo non sarebbe molto educato invitarti e poi parlare io ma c'è un secondo motivo molto più importante che sono praticamente come al solito totalmente d'accordo quindi non farei altro che ripetere le stesse cose magari in termini diversi oppure con gli stessi termini quindi non intervengo a tal proposito però ti vorrei chiedere una cosa riapriamo una parente o meglio chiudiamo una parentesi che abbiamo aperto prima tu prima qualche minuto fa hai parlato degli oggetti matematici e qualche giorno fa mi è stata posta una domanda da un ragazzo mi diceva ma se la matematica studia questi oggetti e le relazioni che ci sono tra questi oggetti come faccio a sapere a causa della loro astrattezza come faccio a sapere che queste relazioni non siano fantasiose non siano inventate non siano semplici opinioni tu come risponderesti a questa domanda è una domanda molto interessante quindi complimenti a chi l'ha fatta è anche una domanda essenzialmente insolubile secondo me interpretata letteralmente cioè provo a leggere tra le righe della domanda ci sono delle cose la cui natura per il momento non indaghiamo che la matematica studia ma queste cose ci sono veramente o no e questa è la domanda sì e soprattutto le relazioni tra queste cose ci sono davvero o ce le stiamo inventando questa è una domanda a cui solamente la filosofia può rispondere e quindi non c'è verso di risolverla definitivamente e secondo me è anche condannata ad avere delle risposte che non saranno mai pienamente soddisfacenti cioè che ti faranno sì però ci sarebbe qualcos'altro da dire oppure non stai tenendo conto del fatto che l'enorme problema della del ciò che non sappiamo della matematica è questo noi possiamo costruire un oggetto linguistico quindi qualcosa che è fatto di simboli astratti che noi manipoliamo e trasformiamo per ottenerne altri e decidiamo di interpretare questi altri come la risposta a una domanda che viene dal mondo reale ovvero sia spero di non raccontare questo aneddoto in maniera spuria o mistificando qualche dettaglio però in grosso modo è andata così per convincere chi doveva dargli una rendita che gli permettesse di studiare a effettivamente sborsare i soldi Galileo disse guarda con la mia matematica io posso fare questo io posso dirti vuoi colpire col tuo cannone l'avamposto dei del nemico perfetto io ti dico a quale angolo mettere la bocca del cannone perché so fare un conto con un moto parabolico e so che se voglio colpire se voglio raggiungere il punto x con 1 partendo dal punto x con 0 la parabola deve disegnare un arco che io so calcolare e quindi so a che angolo mettere e quindi la mia matematica che sembra questa cosa che vive nel iperuraneo è in realtà estremamente utile per te c'è questa dicotomia tra l'utente del linguaggio matematico che in questo caso è facciamo giusto per amore di aneddoto il doge di venezia e galileo che da padova va e dice al doge guarda io posso fare questa cosa e tu non ti devi preoccupare di come l'ho fatta basta che mi dai i soldi per comprarmi da mangiare abbastanza tempo per farti il conto c'è questa tensione enorme tra l'utente del linguaggio e il produttore del linguaggio e l'implicito il baratto è questo io uso i miei simboli le mie formule magiche per fare questo vedo un oggetto del mondo reale lo traduco in simboli manipolo questi simboli e il frutto di questa manipolazione il valore che ottengo alla fine dell'espressione che abbiamo fatto tutti alle elementari e alle medie riducendo via via in un oggetto sempre più semplice con le regole dell'aritmetica ok questo numero poi io dico ah questo numero corrisponde a questo punto dello spazio e quindi ho fatto questo processo realtà linguaggio manipolazione risposta che identifica un oggetto del mondo che cos'è questo processo è il processo di rappresentazione del mondo esterno in termini che possono essere linguistici perché questo problema si può formulare in termini puramente verbali non serve lo studio delle coniche però lo studio delle coniche è quella cosa che ti permette di dare la risposta in maniera precisa efficace e concisa elegante ed è meno prona ad errori ad approssimazioni che potrebbero dirti ah ho sbagliato di un grado e quindi non ho colpito nessuno però hanno capito da dove ho sparato e quindi questa è la condizione che voglio evitare a tutte le cose ok la domanda chi ti ha fatto la domanda è come se avesse chiesto ma per quale motivo io posso manipolare i simboli del mio linguaggio per ottenere un oggetto che non ha nulla a che vedere con la realtà ma che posso trasportare in un oggetto nella realtà sì ecco questa è una domanda a cui nessuno sa rispondere oggi molto probabilmente nessuno lo saprà mai ed è grosso modo la radice di quella che si chiama l'irragionevole efficacia della matematica nella nelle scienze fisiche adesso non mi ricordo il titolo molto lungo ok però c'è stato un fisico matematico molto famoso che ha fatto proprio questa domanda perché la matematica funziona se lo chiedi a me io ti rispondo che questa domanda equivale a quest'altra domanda ho bisogno di piantare una vita in una trave o in un muro invento il trapano e poi mi stupisco che questo trapano funziona faccia molto bene la cosa per cui l'ho inventato e per un miracolo ne faccia anche altre altrettanto bene con il trapano è abbastanza facile e rischia di ridicolizzare questa domanda che fatta nel modo giusto è molto è molto on point ma in parte la risposta è inarrivabile perché abbiamo inventato la matematica perché non capivamo cosa succedesse nel mondo perché avevamo questo fascio di percezioni enorme e anche un po' ci confondeva costantemente non avevamo idea a destra a sinistra le cose cadono verso il basso definiamo il basso come la direzione in cui le cose cadono e via via salendo nella gerarchia dei concetti sempre più astratti il già la persona che ha come posso veicolare questo concetto è un problema di filosofia del linguaggio secondo me purtroppo o per fortuna questa domanda ed è la cosa a cui la filosofia del linguaggio non sa rispondere è proprio questa come è possibile che a un certo punto otteniamo questo strumento che è il linguaggio che ci permette di descrivere cosa vediamo di riflettere su ciò che abbiamo visto e di dire che in base a ciò che abbiamo visto succederà questa cosa e non quest'altra molto spesso questa maniera di ragionare è fallace la matematica è quello strumento che cerca di minimizzare le possibilità che questo processo di deduzione risultì errato perché ti dà un linguaggio e ti dà però anche degli strumenti per dirimere quelle deduzioni che sono corrette da quelle che non lo sono quindi qual è la mia risposta la domanda è molto interessante ma e mi piacerebbe molto avere una maniera di risolverla definitivamente quello che però ci dovrebbe far pensare che alla fin fine stiamo riflettendo su degli oggetti che ci sono è proprio questa capacità che non sapremmo spiegare altrimenti di operare questa traduzione nei due versi da mondo a linguaggio computazione e da linguaggio a mondo altrimenti se stessimo discutendo della del nulla se fosse un enorme sega mentale pensiero matematico non avremmo tutta una serie di evidenze del fatto che abbiamo inventato un oggetto matematico molto prima di un momento in cui si è rivelato utile per esempio per descrivere il comportamento degli oggetti fisici e poi qualcuno ha detto ah ma guarda un po' questa cosa che Hilbert si è inventato trent'anni prima quarant'anni prima in realtà serve a descrivere la meccanica quantistica nessuno se lo aspettava ma von Neumann una persona di enorme sterminata cultura con una conoscenza ammenadito dell'intero scibile umano è stato sufficientemente intelligente sufficientemente con una visione sufficientemente raffinata da dire ah guarda un po' questo e questo sono la stessa cosa e se tu accetti questo fai quest'atto di fede che ci sia un motivo per cui questa analogia sussiste il premio per questa breve diciamo atto fideistico è che sei capace di esprimere di rispondere a dei problemi di rispondere alle domande in maniera completamente formalizzata che senza non saresti capace un po' come le palle di cannone se tu non sapessi la geometria delle parabole saresti molto daresti delle risposte molto ad hoc perché dipenderebbero molto dalle circostanze che magari semplificano il problema di capire dove la palla cadrà invece formulare il problema mettendo in vista tutti i parametri ti permette di risolverne uno nello stesso modo in cui ne risolvi un altro cambiano solo i numeri che butti dentro all'equazione all'algoritmo ok e perché questo succede non lo sappiamo però succede e quindi è difficile credere che stiamo parlando di qualcosa che non esiste perché il fatto stesso che usandolo possiamo modificare la realtà a me questa è la mia opinione induce a pensare che la cosa ci sia però capisci che facilmente scadiamo in quel tipo di ragionamenti che secondo me sono noiosissimi tipo ma Sherlock Holmes esiste davvero cioè sì perché qualcuno se l'ha inventato e gli ha dato un nome e James Bond esiste davvero beh sì oppure che ne so il 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 l'area di Francia è un esempio che che aveva fatto Russell a suo tempo sulla verità delle proposizioni ammissibili non ammissibili non esiste nessun re attualmente in Francia e quindi l'attuale re di Francia ha i capelli bianchi devo considerarla una proposizione vera o falsa? secondo me questo tipo di ragionamenti questo tipo di anche di spinte del problema nei loro come si chiama purtroppo sto dimenticando l'italiano ma come si chiama come si dice in italiano un edge case caso limite caso limite caso limite sì spingere spingere il pensiero o un ragionamento verso questi casi limite che sforano nel paradossale secondo me è molto sterile perché ed è anche una una prerogativa di un certo pensiero filosofico molto di bassa lega secondo me perché è chiaro che il linguaggio naturale non formalizzato è praticamente per costruzione è prono a questo tipo di paradossi proprio perché non è formalizzato proprio perché c'è un'ambiguità di fondo nelle parole c'è una e c'è anche un'ambiguità nell'attribuzione di un significato alle parole la semantica non è perfettamente una copia della sintassi per fortuna altrimenti sarebbe molto noiosa ma ecco il fatto che abbiamo delle evidenze che stiamo manipolando la realtà in base alle deduzioni che abbiamo compiuto dovrebbe secondo me essere una prova sufficiente a dire a rispondere a questa domanda dicendo beh le cose ci sono esistono perché se non esistessero non avrebbero ripercussioni sul mondo reale il fatto se anche esistessero solamente come un oggetto linguistico esisterebbero come un oggetto linguistico che può modificare la realtà e che la realtà sia stata modificata dal pensiero matematico chi ne dubita è difficile avere una conversazione con queste nel senso non proviamoci nemmeno a convincerli perché è dura se non vedono le invenzioni come è cambiata la vita la privacy gli spostamenti la politica l'epistemologia la medicina eccetera sono state definite da un certo modo di intendere e da un certo potere di cambiamento sulla realtà ma infatti se non esistessero sarebbe ancora più difficile spiegare come mai funzionano cioè diventa complicatissimo se non ci sono questi oggetti di cui parliamo come facciamo ad usare qualcosa che non esiste per ottenere un risultato concreto concreto passami passami questo sillogismo un po' sbracato però non puoi generare qualcosa dal nulla siamo d'accordo anche il più eh quindi partendo dal nulla da delle lucubrazioni che non esistono come ho fatto a inventare l'aereo come ho fatto a inventare il il computer è molto mette in una posizione non è una risposta definitiva è molto lontano dall'essere una risposta definitiva però qualcosa deve esserci per avere avuto questo potere non solo ermeneutico ma anche di di modifica della realtà molto semplicemente in ogni caso questa persona che ti ha fatto questa domanda se non fa matematica fisica una qualche scienza dura è sprecato sprecata quindi spingila spingilo a coltivare questo tipo di domanda assolutamente lui temeva fosse una domanda non troppo intelligente ne abbiamo parlato venti minuti quindi non è stato di sicuro non è una cosa che si risolve facilmente e poi voglio dire il problema qual è lo statuto ontologico degli oggetti della matematica che è la maniera diciamo forbita di fare questa stessa domanda o sono stati scritti tonnellate di pagine su e tutte cazzate se lo chiedi a me io per primo non saprei fare di meglio però lasciano molto il tempo che trovano le risposte quindi c'è anche persino spazio per propalare una teoria alternativa che sarebbe definitiva sperabilmente vorrei ritrattare un'altra tematica con te brevemente che è connessa a questi argomenti magari mi dai dei cenni e poi la approfondiamo alla prossima chiacchierata va bene cosa ne pensi della divulgazione della matematica in Italia però ok allora ne penso male però fammi entrare nel merito spero di riuscire a rispondere brevemente sarebbe molto bello fare divulgazione lasciando a chi la ascolta un'idea fedele di che cos'è parlo della matematica non dirò della fisica della biologia della chimica io parlo della matematica purtroppo c'è questo problema semplificare le idee della matematica troppo significa tradirne la natura e quindi è molto complesso comunicare un'idea in maniera fedele allo stesso tempo facendo un processo di semplificazione che non può andare avanti all'infinito cioè sebbene la natura delle idee matematiche non sia gerarchica più di tanto ci sono però delle cose senza le quali come per requisito è impossibile imparare il resto bisogna aver fatto un po' di algebra un po' di algebra lineare un po' di analisi di calculus si chiama analisi in italia per poi studiare l'algebra astratta in maniera più approfondita teoria della misura la geometria di varia natura geometria differenziale da lì uno vuole fare un po' di relatività io non lo fermerò di certo però almeno ha un'idea di qual è il linguaggio matematico per fare relatività e così via e così via ok il problema qual è che o prendi un libro di matematica scritto da matematici per matematici oppure non ci riesci perché ai libri divulgativi che sono scritti per il grande pubblico manca questa caratteristica di dirti ok definizione un gruppo è un insieme non vuoto dotato di un'operazione binaria associativa eccetera 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 esempi di gruppi in cosa questo libro divulgativo sarebbe diverso da un libro elementare di algebra uno per un ipotetico corso di algebra in nulla però questo è l'unico modo onesto di raccontarti la storia magari inserendo dell'aneddotica quella prospettiva storica in cui ci siamo persi per la prima mezz'ora di questa chiamata magari dando delle idee intuitive magari dando degli esempi che non vengono dalla matematica pura ma dalla realtà dalla vita quotidiana dalla storia dalla linguistica dalla fisica dalla chimica per esempio tutti noi che abbiamo fatto il liceo scientifico o non solo il liceo scientifico ma ovunque si studi chimica impari da adolescenti impari a bilanciare delle reazioni chimiche ok ma nessuno ti spiega che quello è un problema di algebra lineare stai cercando di risolvere un sistema lineare se venisse insegnato un minimo una proprio una quantità minuscola di algebra lineare agli studenti di liceo scientifico per fare un esempio questo problema che è calato dal cielo cioè si fa così perché perché si fa così non chiedere verrebbe banalizzato verrebbe disintegrato di ogni complessità e verrebbe ridotto a quello che è cioè una banale applicazione di un concetto che abbiamo visto da un'altra parte per un motivo completamente diverso e però qui è un esempio e guarda caso si fa così ok questo manca nella scuola ma manca anche nella divulgazione manca a dirti ti do delle definizioni slegate dalla realtà e poi ti dico ah guarda le trovi qui e qui e qui un ultimo esempio un matematico di enorme levatura jean pier ser un matematico francese ancora vivo tra l'altro però ha appondantemente passato i 90 anni lui è stato il più giovane individuo ad aver mai vinto una medaglia filza 26 anni quindi poco ok ci togliamo il cappello esatto lui ha scritto un libro di teoria dei gruppi che doveva servire come una breve dispensa per un corso di algebra che lui ha tenuto in una facoltà di chimica questo libro è un eccellente libro di teoria dei gruppi per un matematico è finito per essere un eccellente perché chiedere a una persona di questa enorme competenza di scrivere un libro che secondo lui chiun è un libro a livello tecnico degno di un corso per matematici ma con una chiarezza con una esposizione così cristallina così che fa sembrare un argomento estremamente complesso ramificato vastissimo sottile incontro intuitivo questa cosa facilissima ok e perché perché lui doveva spiegarla dei chimici però vagli a spiegare che i chimici non sanno veramente la matematica avrebbe dovuto fare un lavoro di semplificazione migliaia di volte maggiore e la divulgazione ha questo problema secondo me fate le debite proporzioni deve raccontare a gente che non sa le cose delle cose ma non può farlo nell'unico modo onesto cioè come si spiegano quelle cose alle persone che faranno di lavoro quelle cose quelle cose e e e la matematica ha questo problema perché è tutto sommato è un linguaggio slegato dall'esperienza comune non posso dirti facciamo un esperimento che ti fa vedere che il volano funziona in questo modo la caduta dei gravi funziona in questo modo la fluido dinamica segue questa equazione misuriamola cos'è un errore sperimentale questo tipo di cose mancano o sono traslate da un'altra parte raccontarle in un libro è un esperimento che si può fare solo con l'occhio della mente diciamo così bisogna sviluppare questa capacità di manipolare degli oggetti che però sono degli oggetti che vivono solo nel pensiero sono forme geometriche astratte sono strutture astratte sono operazioni e ragionamento equazionale sono deduzioni quando uno impara un po' di deduzione naturale quello è un modo di ragionare molto meccanico però anche molto illuminante perché vedi proprio che c'è un processo algoritmico che va da ipotesi a tesi da una famiglia di ipotesi a una tesi ed è anche molto è quasi la sensazione che si ha facendo un cruciverba o facendo un mandala perché stai costruendo questo oggetto bellissimo sul foglio tutto arabescato per capire che la congiunzione è associativa congiunzione logica è associativa e fai questa fatica immensa guarda ce l'ho qua non ho fatto al caso quell'esempio ma capisci c'è questa dimensione inevitabile nell'apprendimento che io ti ho dato delle definizioni e però finché non ti ho fatto lavorare con queste definizioni ti ho costretto a sbattere la testa e a affrontare la frustrazione che viene dal non capire e poi dopo molta fatica invece capire non imparerai mai o avrai delle cose una idea un'immagine mentale completamente sbilenca rispetto a ciò che sono in realtà e succede molto spesso nella io sono molto attivo per sfortuna degli altri utenti di questo forum su una in una comunità di matematici italiani che sono per lo più studenti o c'è qualche docente di scuola pochi tra pochi molto pochi accademici e è molto visibile l'atteggiamento delle persone che sono completamente autodidatte nell'imparare la matematica da quelle che invece hanno un'esposizione da un in un corso di laurea in una cosa più sistematica in una cosa non sono in tanti quelli che si mettono lì con i libri e studiano però si mettono lì con dei libri che magari gli raccontano questa storia che ne so sulla teoria dei gruppi tanto per rimanere in tema poi convinti che quello gli abbia dato delle 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 pertinenze leggono un libro più complicato ma non hanno idea di quello che stanno leggendo o ce l'hanno solo superficialmente perché hanno queste idee confuse sulle definizioni su quali sono le ipotesi cosa bisogna dimostrare come si procede perché non hanno fatto quella fatica preliminare su domande più elementari e poi hanno voluto studiare la teoria di Galois la geometria differenziale la fisica eccetera eccetera e non sanno fare le derivate non sanno fare la divisione di polinomi delle cose facilissime ok non hanno idea di cosa significhi avere una radice in un post in un sistema in un insieme di numeri ma non in un altro non hanno idea della proprietà dei polinomi di quali teoremi ti dicono se un polinomio è riducibile o no e hai voglia imparare la teoria di Galois imparare la teoria dei gruppi l'analisi funzionale compagnia cantante senza avere queste nozioni preliminari e come si acquisiscono beh sui libri di matematica per matematici un divulgatore che sia capace di dire guarda purtroppo non ci sono vie regge in geometria e l'unica maniera di imparare queste idee è sì diluirtele molto però non dartele non fare a meno di dartele dartele comunque anche se poi fai il il ciabattino il macellaio il l'autista di camion che non sono non voglio con questo dire che sono delle occupazioni semplicemente hanno poco contatto poi con la pratica matematica come linguaggio scientifico e io non posso esimermi cioè se ti interessa sapere che cos'è la teoria della relatività io purtroppo ti devo dire che cosa sono i tensori e come si fanno i conti con i tensori se ti interessa sapere la logica io non posso esimermi dal darti la capacità di leggere quei diagrammini che hai sulla maglietta non posso raccontarti la solita storia del linguaggio naturale con la congiunzione logica la disgiunzione nel linguaggio naturale e basta devo darti un sistema formale devo dirti come si manipolano le variabili devo dirti come si fanno le dimostrazioni in deduzione naturale se vuoi imparare l'algebra lineare non posso non spiegarti quelle cose che studiano tutti quelli che fanno la riduzione di Gauss poi gli autovalori gli autovettori eccetera eccetera io come sai perché ne abbiamo parlato e poi è una cosa che ancora mi perseguita del mio passato io ho iniziato studiando fisica ok poi sono migrato a matematica ma ho mantenuto degli amici dei colleghi e c'è un punto nella triennale di fisica in cui si fa un corso di meccanica quantistica ok allora io me ne ero andato da un po' ho mollato a metà del secondo anno e quindi non ho fatto in tempo a vedere questo corso meno male perché dopo un po' incontro un mio vecchio collega che è rimasto lì sta continuando a studiare mi fa sai è iniziato questo semestre è iniziato il corso di istituzioni di meccanica quantistica e qui si vede mi fa tutta la matematica che non sappiamo qui c'è il momento della verità in cui vediamo tutta la roba che non abbiamo fatto e che non siamo pronti per capire perché ci viene lanciata addosso a velocità super luminale questa quantità enorme di concetti che non capiamo e che siamo completamente sovraccarichi tutto il tempo e se inizi male dopo continui peggio e poi arrivi a una cosa veramente difficile e non ce la fai quindi il problema è questo cosa vuole fare la divulgazione vuole insegnare un po' di matematica alla gente o vuole illudere le persone che manifestano un interesse di avere poi un barlume non dico di competenze perché la stragrande maggioranza di queste persone capisce che un conto è leggere un libro divulgativo o un conto è fare leggere un testo vero per fortuna purtroppo ci sono dei controesempi ma non dico questo ma una persona io sono dell'idea che una persona che manifesta interesse per una cosa così bella così profonda così vasta e anche così difficile da indagare da soli vada aiutata ma vada aiutata a entrare nella tua comunità non essere questo questa entità che non appartiene né ai maghi né ai babbani come si fa io non lo so penso che fare divulgazione bene sia molto difficile quando si mantiene questo punto stilistico e anche morale che io sto cercando di difendere molto più difficile di come la si fa adesso indubbiamente perché bisogna essere estremamente competenti e abbastanza competenti da raccontare una storia che non tradisca la natura profonda dei concetti ma quella natura profonda l'autore l'ha compresa a volte no ovviamente si vede molto bene palesemente a volte l'ha capita ma scrivere bene raccontare bene una storia che si è capita non è banale bisogna farlo per molto tempo con dedizione con impegno e con anche autocritica perché una piccolissima parte della capacità di migliorare la propria esposizione viene dagli altri dal giudizio degli altri perché devono sciropparsi questo libro di 300 pagine che hai scritto e devono darti un consiglio non lo faranno mai non hanno tempo e quindi devi essere tu il severo giudice di te stesso chi ha questo fuoco interiore che arde pochissime persone pochissime se pensi a quante poche persone fanno scienza di alto livello in Italia di questo è un sottinsieme minuscolo a poi le capacità e la voglia di fare buona divulgazione si rimane con nulla in mano perché è una cosa difficilissima è perché non è che siccome sai conosci la teoria e sai parlare a un altro matematico allora sai parlare anche a uno perché ci sono una serie di cose che dai per scontate in questa conversazione che abbiamo fatto io e te io sicuramente sono caduto preda di questo errore di questa cosa che allontana alcune persone che non hanno il linguaggio e i prerequisiti allora questo è bene o è male cioè è una forma di di gatekeeping oppure è una caratteristica del fatto che la cosa di cui parliamo è molto complessa è molto difficile difficile determinarlo perché a volte c'è una postura intellettuale nella voler parlare per forza un linguaggio impenetrabile e a volte invece è inevitabile perché io non posso per il solito discorso io non posso fare a meno di dirti cos'è un gruppo se dobbiamo parlare di teoria dei gruppi dobbiamo metterci d'accordo che questa parola significa questo e non qualcos'altro significa esattamente precisamente questo e quindi è difficile buona fortuna a chi vuole fare il divulgatore allora tu per esempio lo fai bene tu perché secondo me perché secondo me tu fai non fai uno sconto a chi ti ascolta però sei partito veramente quanto più dall'inizio fosse possibile ecco confermerai che non è facile fai una fatica tre volte tanto rispetto a quelli che raccontano la storiella l'acqua di rose eppure poi paga perché tu capisci meglio quello che racconti sei molto più soddisfatto perché sai che stai raccontando le cose senza fare sconti all'ascoltatore l'ascoltatore si è messo alla prova e quando capisce è come dicevamo l'altra volta empowering è lo fa stare bene gli fa dire ah guarda tutto sommato non sono proprio stupido o stupida ho capito questa cosa difficilissima di logica e beh è così che si fa si avvicina la gente a questo linguaggio dandogli giocattoli che li che li divertano e poi dei giocattoli più complicati e poi più complicati e poi più complicati allora questa chiacchierata per me è stata molto bella perché mi riconosco in quello che dici insomma sempre bello parlare con uno spirito affine diciamo così io ovviamente ti inviterò di nuovo come abbiamo detto magari approfondiremo questa questione della divulgazione e poi voglio parlare di Gentile perché beh quella sarà una mi devo devo prendere poco caffè se no mi incazzo troppo va bene niente anche a me anche a me ha fatto piacere questa chiacchierata e spero di non avere solo ciarlato ruota libera spero di aver detto delle cose sicuramente sicuramente interesseranno l'auditorio e niente beh ci sentiamo stiamo in contatto ciao 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 ciao